Settima missione dell'atto primo ragazzi è posto molto brutto questo il cimitero dove sepolta la nipote di Hayden Lena Peirce ricorda forse sarà ancora più amaro di quel che penso così a naso sembra tipo la missione seppellire la scia di guerra di gta 5 tu sai chi lascia questi fiori no i becchini ma la piccolina ha tanti amici aveva bisogna andare avanti lo so è stato un incubo orribile per tutti ma tu devi smettere di provare a rimediare non sto provando a fare niente Hayden guarda che so tutto stai cercando i responsabili di tutto questo ma in questo modo ci metti di nuovo in pericolo non siete in pericolo perché io vi proteggo ma ti senti Hayden perché non ti fermi perché perché non mi fermo io devo sapere cosa sei mio fratello e ti voglio bene ma jackson è il mio mondo e non esiterò ad allontanarti se tu mi costringerai a farlo prometti che ti fermerai non puoi salvare lena l'ho uccisa io no non sei stato tu non è colpa tua devi promettermi che ti fermerai quanti anni ha sua sorella 17 siamo una famiglia e poi non si è fermato forse ha ragione lena è morta devo accettarlo ma come faccio a lasciar perdere che poi è la sua nipote però ovviamente c'ha sulla coscienza la morte che non è roba da poco uno che se l'è cavato allo stadio se quello parla ti individuerà che cosa e come è successo è facile non è morto calmati amico ho un piano ci vediamo a grumanize sul tetto va bene ci sto comunque questo non era il ricordo che tanto pensavo buh 6.000 buono dobbiamo andare qui? faccio così ciao ha sbloccato tipo tutti i rifugi figuratevi se non ci vado no nessun chimico ho messo ma adesso non non ho bisogno di fare il rilevamento crimini abbiamo già fatti troppi ragazzi adesso è arrivato il momento di prendere la situazione sotto sotto braccio e cominciare a a macinare sta storia non c'è di che mica quanto cazzo curva toglietevi tutti dalle palle grazie niente pizza stasera bellissimo il timelapse che c'è anche a gta copiatissimo l'altra situazione forse gli darei la caccia o viceversa se dice che abbiamo un problema devo prenderlo come un enorme eufemismo non devono identificarmi cosa molto importante allora appunto numero uno come ci salgo lassù dal vaso pensavo di dover far giro pensate voi ciao giordicin giordi chi sono quelli beh vivono qui cos'è successo vedi la sicurezza in questi edifici è tosta quindi quelli come loro qui si sentono al sicuro prendi questi avevano un catenaccio da niente alla porta vorranno vedere la faccia del ragazzo delle pizze prima di aprirli va bene ho capito chiaro tornando al problema beh per questo ho portato la tronca ecco perché in inglese si chiama not the pizza guy ecco perché che indovinate non è il ragazzo delle pizze giordi il problema pensiamo a quello ci stiamo pensando ho in mente un mucchio di soluzioni Pierce tu non apprezzi quello che faccio per te non hai capito quanto ci tengo a te vero? finito? già fammi un favore sistemiamo la faccenda quanto tempo abbiamo? nulla te lo ricordi quel duro allo stadio? ha smesso di fare il duro è morto nella prigione di Chicago ah ok sta per essere interrogato e punterai il dito drutto contro di te cazzo ma com'è successo? d'accordo è colpa mia vieni a vedere vedi laggiù? c'è stata una chiamata stamattina c'è chi paga una bella somma per far parlare col pagliaccio e uno di quei tizi si occupa della faccenda direi che io e lui dobbiamo fare quattro chiacchiere sì ma stavolta niente scherzo della pistola scarica il povero Maurice si è pisciato sotto l'ultima volta ognuno ha i suoi metodi sai come si usa? tu porta il culo laggiù io ti copro e stavolta vedi di non uccidere il capo guarda che ti serve va atterrato questo assomiglia molto molto a covid della banda facciamo in fretta ok i miei ospiti si lamentano in balcone e rischia di venirmi un'emicrania e a quel punto Pierce non ti servo a niente e secondo te io non voglio fare in fretta? ma che ne so io? non sei molto empatico eh? non eccessivamente parlami del... non male ho alzato la resistenza tipo sì qualcuno vuole a tutti i costi il giustiziere finceranno il trasporto di un prigioniero per far uscire l'unico che può identificarti non hanno mai messo insieme così tanta gente sanno che proverò a fermarli senti il testimone mi ha visto in faccia se i fixer lo prendono se scoprono il mio nome andranno dalla mia famiglia ah ci risiamo sei troppo sentimentale Pierce è una debolezza un giorno qualcuno la userà contro di te tu puoi esplodere esplodi ma non ho occhio ovunque iniziamo ok tu che puoi fare? nulla sei inutile lui può chiamare rinforzi qua sta venendo qualcuno? no buoni zitto lì che culo riprendessi mai la prima volta? mmm poveraccio peso tanto ricarichiamo non si sa mai eh che c'è colà sulle scalle che è rognoso devo prendere per forza minchia 137 di denaro si è ricchissimo questo telecamera non capisco perché se ne stia piantato lì lui ecco forse l'occasione adesso dai vieni avanti buono così buono così buono così una volta mica facevo queste operazioni tipo andavo dritto a cazzo duro la terza è andata eh ok più quattro ce ne sono per me ho paura di essere individuato capito sono la sbloccheregia infatti la sblocco e vaffanculo bene così e lasciati lì è tutto tuo è lo stesso minchia che precisione oh Jordi Chin aspetta aspetta fermo chi gestisce la cosa in prigione cosa non sappiamo di che parli moribondo e parla così Lance Brenner la famiglia che fai ti ho chiesto della tua famiglia pare proprio che tu stia vivendo due vite parallele padre di famiglia i figli presto andranno al college sono belle spese vuttiti e poi c'è la tua seconda vita conti fantasma stracolmi di soldi ehi lo sai che il tuo nome è legato a un sacco di casi risotti scommetto che la polizia non vede l'ora di incontrarti ok aspetta vuoi una fetta della torta? si può fare ma stai morendo ok ok cazzo per la prigione è Angelo Tucci o tutti italiani mafiosi criminali incredibile anche a GTA in celotti pelosi perché vuoi la sua famiglia? che cazzo di problema hai? da dove vuoi che cominci? cazzo di tutti i fixero scappa ma io posso fare questo usare usare e la corsa ecco cosa via via hard dick Cazzo duro Against the wall Contro il muro Vedo una bella navetta lì Potrebbe essere la soluzione Se si potesse pilotare Cosa non scontata Mi fa strano che col destroyer Io non abbia potuto Mettere fuori combattimento L'elicottero Io credo che si possa pilotare questa Eh si eh Bellissima il taxi L'idrotaxi Madonna quanto cazzo è lento Fate attenzione È in giro Lo abbiamo trovato Ti posso disattivare? Sì posso A parte con sta velocità qua Cerchiamo ancora Dov'è andato? Adesso con sto trabiccolo qua Piano 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 Raggiungeremo il nostro obiettivo Credo e spero Madonna che pena Godo elicottero distrutto Cioè insomma Disattivato Vedo la chiusura del cerchio Non vedo motivo per cui Dovrebbero trovarmi Fermiamoci L'abbiamo perso Niente pizza stasera Riuscita Con una fuga In extremis E sono 7 su 9 Dell'atto primo Ce l'ha chiamata però Non mi hai più chiamata Hai trovato il tipo che cercavi? Sì Ma è una brutta storia Devo trovare un'altra persona Stavolta so il nome Elena Tucci Ha a che fare con uno che cerco Vive a Chicago? Sì Devo trovarla subito Eccola Wow Ha un'impronta digitale Niente male In un post di stamattina Ha scritto di una riunione Per oggi Fuori dalla Willis Tower Che ha un kink Per le impronte digitali lei? Strana come ci sta eh